Se vuoi avere successo online, devi assolutamente integrare nella tua attività lavorativa il fare i video. Ancora oggi mi relaziono con strutture, attività, aziende, imprenditori, libri professionisti, marketer, con persone che non hanno integrato nella loro giornata lavorativa il fare i video. Cioè non si sono ritagliati quell'ora giornaliera per mettersi davanti alla telecamera, che sia uno smartphone, una fotocamera, una telecamera o una troupe cinematografica, per fare i video, per promuoversi online. Come se questa fosse un'attività completamente parallela. Ma non si può più ragionare in questo modo, no? Come fai a considerarla un qualcosa di esterno al tuo lavoro se è questa l'attività che ti porta a nuovi potenziali clienti, a conoscere la tua realtà, a vendere poi successivamente i tuoi servizi o prodotti? I più grandi formatori italiani e non, lo sai che cosa fanno per promuoversi, per avere successo online? I video! Sono scemi, sono cretini che dicono si mettono davanti alla telecamera, fanno i burloni, fanno i buffoni. No, fondamentalmente ottengono risultati, fatturano milioni di euro l'anno. Quindi ci sarà un motivo perché tutti i giorni questi cristiani prendono, si svegliano, si mettono davanti alla telecamera, dicono quello che hanno da dire, divulgano quello che hanno da divulgare e mandano poi a montare i propri contenuti video tutti i santi giorni. Qual è la differenza tra loro e te? Che loro hanno integrato questa attività nelle cose da fare giornaliere. Non puoi pensare di ottenere successo postando online quattro post in croce con quattro frasi buttate lì. Perché ormai lo fanno tutti questo. Se vuoi ottenere successo, poi bisogna capire che cosa intendi per successo. Per me successo significa raggiungere un determinato fatturato l'anno, dare del lavoro, passare del tempo con chi voglio bene e avere del tempo per me. Questo è il mio modo di avere successo. Poi magari è differente dal tuo, però parliamoci chiaro perché le cose vanno dette come stanno, no? Se una persona, un imprenditore, un marketer, chiunque sia, viene e mi dice voglio ottenere dei risultati online, voglio avere un fatturato maggiore, voglio ottenere visibilità, voglio aumentare le mie vendite, eh? Non ci sono altre scappatoie, eh? È quella la strada, eh? È solo quella la direzione. Il che non significa comprare macchine fotografiche ipercostose. No, guarda, ti mostro che cosa serve. Questo, basta, inizi da questo. Eh, ma io così non do un'immagine credibile, autorevole, tutti fanno i video con lo smartphone. Ma ancora non hai fatto il primo video. Fai il primo video. Cioè, l'ostacolo mentale è fare il primo video. Una volta che hai postato il primo video, poi possiamo parlare di tutto quello che vuoi. Dell'attrezzatura, dell'inquadratura, della scena, del modo in cui comuni, tutto quanto. Però prendi questo smartphone, accendilo, fotocamera, rec, fai video, posta il video. Non esiste più, io oggi non ho tempo per fare i video. Tu, un'ora al giorno, ti devi mettere davanti la fotocamera e fai dei video. Perché, se vuoi bene alla tua attività, devi fare così. Poi, se tu mi dici, io non ho tempo di montarli questi video. Allè, tu puoi di quello che te pare. Io mi posso pure mettere davanti la telecamera. Eh, ma tu non devi fare niente. Devi prendere, incidere i tuoi video e mandarli ai diretti interessati per montarli. Fine. Un'ora al giorno, quello che viene, viene. Giri il tuo lavoro, lo montano e lo postano. Poi, se hai bisogno di questo servizio, se hai bisogno di un supporto per montare e editare i tuoi video, clicca sul link in descrizione. Fine. Nessuno ti sta dicendo che devi diventare un videomaker, provetto, un montatore video perfetto. Assolutamente no. Ognuno ha il proprio ruolo in questo mondo. Tu fai il tuo lavoro. Per promuoverlo, devi creare dei video. Se vuoi avere successo online, altrimenti, se non vuoi, puoi continuare a fare come stai facendo. Per fare dei video, la prima cosa di fare è iniziare. Per farli meglio, devi imparare a trasmettere un'immagine credibile e autorevole. Per renderli più dinamici, hai bisogno del montaggio video, quindi di affidarli a qualcuno che ne renda più piacevole la visione. E soprattutto che sia in grado di pubblicarli, indicizzarli per bene all'interno dei social, perché altrimenti un video creato che non viene trovato è un video inutile. Di questo hai bisogno un'ora al giorno per fare i video per promuoverti online. Se vuoi aumentare le tue vendite online, devi assolutamente trovare il tempo per fare questa cosa. Poi se hai bisogno di supporto, vuoi capire anche tu come poter aumentare le tue vendite online grazie ai video, ho preparato un video gratuito apposta per te e ti basta cliccare sul link che trovi in descrizione. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che ti è stato utile. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanellina e al prossimo video. Grazie a tutti.